Venerdì sera i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Eric Fasolino, hanno arrestato un cittadino albanese di 39 anni ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari, violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenne. L'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Salerno arriva in seguito ad una serie di discontri investigativi raccolti dai militari dopo la denuncia presentata dalla compagna, una 24enne anche la di origine albanese. La donna ha riferito di aver subito continue umiliazioni e percosse nel corso della loro unione, cui si aggiungevano rapporti sessuali consumati con la forza anche alla presenza del figlio di tre anni. In particolare l'uomo a partire dal 2014 aveva costretto la donna a vivere nel perenne timore di patire aggressioni fisiche e verbali, rendendole dolorosa la convivenza e realizzando nei suoi confronti una condotta di sopraffazione sistematica anche attraverso violenze sessuali. Il 39enne, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Forni, mentre la donna ed il figlio sono stati trasferiti in località protetta.